Buone feste! Questo è il mio regalo di Natale per voi. In questa domenica, 25 dicembre, ho deciso di far uscire questo video che non era assolutamente programmato per dirvi qual è il regalo che faccio io a voi per il proseguito di questo campionato di Serie B e soprattutto della stagione calcistica. Ho deciso di introdurre nuove cose, però prima di partire col video vi devo augurare ancora buone feste di buon Natale assolutamente domani sarà anche Santo Stefano il 26 dicembre e poi ci rivedremo anche per augurarvi le buone feste di buon anno nuovo. Però il mio regalo di Natale per voi qual è? Adesso lo andiamo a vedere bene nel dettaglio però ancora una volta, prima di partire col video vi devo chiedere un pollice nel suo video un'iscrizione al canale totalmente gratuita ragazzi, mi raccomando vi ringrazio per tutto il supporto che mi date continuate a farlo con un mi piace a questo video e un'iscrizione al canale totalmente gratuita partiamo subito, partiamo subito col dirvi il mio regalo per l'appunto di Natale per voi ho deciso di introdurre due nuovi format ci sarebbe anche un terzo che però vi lascio in stand by e ve lo chiederò tramite un sondaggio sulla mia scheda community tra qualche ora però i due nuovi format che uno è un ritorno e l'altro è un nuovo che ho ideato questa mattina i due nuovi format che ho deciso di portare e di aggiungere alla programmazione comunque già ampia sulla serie B sono il ritorno è il cosa aspettarci dalla giornata, non lo so, numero 20 della serie B tornerà questo format che avevo già intrapreso a inizio anno ma che poi ho messo da parte causa forze maggiori per tempistiche che non ce la faceva starci dietro quindi l'avevo accantonato ma era un format che comunque vi piaceva tanto e quindi ho deciso di riproporvelo magari in una versione più carina cercherò di creare qualche grafica carina per renderlo ancora più bello ma comunque la base del format rimarrà quella andiamo ad analizzare qualche partita giornata per giornata perché per vedere cosa aspettarci perché ogni giornata di serie B può veramente regalarci tante emozioni andremo a vedere quali squadre dovranno dare una risposta sul campo dovranno andare alle cerca del riscatto quali squadre saranno obbligate a vincere quali squadre affronteranno trasferte insidiose in campi difficili e poi invece quali squadre saranno chiamate a proseguire con un livello di prestazione e dei risultati fatti magari vedere prima nella settimana precedente quindi questo è il format che riparte ripartirà magari per l'appunto con qualche grafica nuova per renderlo un po' più carino il video anche in fase rende un po' più carino anche magari con l'editing e questo è il primo aspetto il nuovo format il nuovo format tra virgolette il format che torna il cosa aspettarci dalla giornata che ne so 20 della serie B voglio portarvelo giornata per giornata insieme ai pronostici che è un format importantissimo per questo canale l'altro format che invece ho deciso che ho sviluppato stamattina questo invece in più riguarda in più il post giornata sapete che esce sempre ogni lunedì all'ora 18 la zona caffè di serie B ho deciso di ampliare il post giornata di serie B con questo nuovo format le 5 squadre che mi sono piaciute di più si intitolerà così in cosa consiste questo format in cosa consisterà lo sviluppo di quel video elenco per l'appunto 5 squadre e squadra per squadra andiamo con l'analisi più dettagliata della partita che hanno giocato in quel weekend con statistiche molto interessanti e più andiamo a fare un'analisi di classifica molto molto profonda sempre per tutte queste 5 squadre quindi praticamente io dopo ogni weekend andrò a scegliere 5 squadre che mi sono piaciute di più che sicuramente avranno vinto la partita o che magari hanno pareggiato ma che mi hanno fatto vedere qualcosa di interessante andremo ad analizzare quel tipo di partita lì con statistiche e in più ci soffermeremo anche sulla classifica capire un po' come sono messi in classifica se sono magari in una posizione tranquilla o non tanto tranquilla se sono in linea magari con gli obiettivi che la società si era prefissata in inizio anno ed è questo il nuovo format che ho deciso di regalarvi per questa seconda parte di stagione di serie B quindi andiamo ad ampliare la programmazione sulla serie B ricapitolando quali saranno da qui a fine anno i format che vi andrò a portare i pronostici di serie B e il cosa aspettarci prima di ogni giornata la zona caffè e le 5 squadre che mi sono piaciute di più dopo la giornata di serie B quindi 4 format sulla serie B con una programmazione molto molto ampia per cercare di raccontarvi al meglio uno dei campionati un campionato stupendo come quello della serie B che ci regala sorpresa su sorpresa continuerà la carriera allenatore su Lecce adesso breve a giorni uscirà il terzo episodio e ogni tanto ci sarà qualche video magari indicato proprio su una partita con statistica con squadra a confronto ogni tanto è un video che potrà uscire e aspettatevi per l'appunto il post community che vi devo mettere tra qualche ora per chiedervi se volete vedere ogni tanto un tipo di video diverso ancora auguri di buone feste un pollicione sul video un'iscrizione al canale noi ci becchiamo a un prossimo video bella ragazzi a un prossimo video